Riunione operativa per controllare, monitorare la situazione che comunque sembra tornata quasi alla normalità. Sì, la situazione è sotto controllo, è chiaro che ci sono ancora dei punti in cui il ghiaccio è ancora presente, però noi abbiamo fatto dei passaggi sia ieri e li stiamo rifacendo oggi nelle ore più opportune appunto per spargere il sale. La situazione è complessivamente sotto controllo, adesso l'unica questione che resta è quella di revocare eventualmente l'ordinanza per i mezzi superiori a 7,5 tonnellate. Quindi stiamo insieme qui con il prefetto, stiamo elaborando un provvedimento che naturalmente dovrà firmare lei e che dovrà essere coordinato con quelli delle altre prefetture per ripristinare il transito dei veicoli pesanti sulle autostrade e sulle strade normali. Perché è intervenuto il blocco in autostrada e adesso dovrebbero ripartire. Sì, la situazione è tornata nella normalità per quanto riguarda la 14 verso sud, per cui si potrebbe tranquillamente revocare, ma naturalmente il provvedimento va coordinato con Pescara e poi Chieti, Campobasso e così via. Sull'A24 e sulla 25 si può tornare a transitare, permangono problemi nelle marche, anche per cui si sta studiando di non consentire ancora per il momento il transito dei mezzi pesanti verso nord. C'è però il problema di tantissimi autotrasportatori che in questo momento sono bloccati e che con le strade tutto sommato sgombre potrebbero ripartire. Ora il prefetto ha già dato però comunicazione alla polizia stradale di cominciare a veicolare gli autotrasportatori verso sud oppure verso Roma.